Oggi il nostro supereroe dalle forme morbide è andato in piena ZTL, sì insomma, in centro da Pierre Ferdi Casini a complimentarsi per l'idea di un grande centro che vada da Fini a Rutelli, però non dici mai niente. Super Bottom Pier Ferdi, Pier Ferdi, Pier Ferdi, Pier Ferdi, Pier Ferdi, Pier Ferdi, per non dare nell'occhio mi camuffo da motorino parcheggiato, Casini, è qua. Quando sente che la preda è vicina, l'eroe fucsia scatta in azione. Valido, valido, validissimo, onorevole che piacere, che piacere, veramente, si faccia abbracciare, posso? Adesso, buongiorno, le voglio fare i complimenti, lei è bellissimo. Che bellina questa è. Pier Ferdi non si smentisce, oltre che al centro, punta anche al centrino. Opla. Lei è bellissima innanzitutto, è un incrocio fra George Clooney e Colosseo. Le do un consiglio da esperto, da esperto. Da esperto. Visti? Prego, prego, si accomodi. Visto, visto che la Lega ce l'ha duro, l'idea di allargare il centro non mi sembra proprio, però le appoggio un leader come Luca Cordero di Monte Zevolo. Speriamo che mi regali una Ferrari. Bravo, sai perché, onorevole, perché così voi ce l'avete la Ferrari. La Lega mi fa un baffo, c'ha un carroccio, non c'è gara. La ringrazio. Bellissimo, onorevole Pier Ferdi, lei è bellissimo. Onorevole, valido, valido, validissimo. Come si ricordi Pier Ferdi, se ha bisogno di un grande centro, gli è presto il mio, che è grandissimo. Superbottom, chiappe in spalla. Superbottom.